Pellegrinare significa essere in cammino da un'idea del teatro Noma fondato nel 1994 dall'attrice e drammaturga Teresa Pomodoro e dal 2008 retto dalla sorella Livia Nasce in Cammino, un itinerario dello spirito, della cultura, dell'arte e dell'economia sostenibile. Abbiamo il grande piacere questa mattina di essere collegati con la Presidente Spazio Teatro Noma di Milano, Livia Pomodoro, Presidente del Museo a Cielo Aperto di Arena Po, è già Presidente del Tribunale per i minorenni e è già Presidente del Tribunale di Milano. Buongiorno, benvenuta, grazie davvero di cuore per essere con noi. Buongiorno, grazie. Allora, partiamo da una... Mi sente, sì? Sì, adesso la sentiamo, sì, l'avevamo persa a qualche istante. Presidente, partiamo da una curiosità. Che cosa significa Noma? Noma è una paura che viene dal greco. Viene dal greco antico, da Plutarco. Noma significa pensiero e sentimento. Nos ed emos. Ed è quell'acca che è la E, è la famosa E attica. Che fu introdotta da Plutarco nelle lettere. Ed allora è diventata, naturalmente, patrimonio della cultura greca. è Noema che indica il spirito dello spazio teatro Noema dedicato a mia sorella. Allora, siamo rigorosamente in diretta, lo diciamo naturalmente a beneficio degli amici che ci seguono. Presidente, purtroppo il telefono si è ruotato, l'immagine si è ruotata, quindi la vediamo al contrario. Magari chiediamo di poter ritornare. Eccoci qua, benissimo. Va bene anche in vertica, ok. Così la vediamo. Fatissima, va benissimo. Ecco, magari così la vediamo. Ok, benissimo così, perfetto. Siamo ritornati. Bene. Allora, dalla sua nascita ad oggi, qual è la missione del teatro Noma? Beh, la missione del teatro Noma è quella di un teatro libero e indipendente che ha una caratteristica unica al mondo. Non si paga il biglietto per entrare. E noi abbiamo una serie di spettacoli di altissimo livello con una partecipazione enorme di pubblico e anche in streaming in tutto il mondo. Quindi siamo molto fieri dell'attività che svolge questo teatro. per ovviamente per l'ampliamento della cultura e per la conoscenza della cultura vera che è patrimonio di tutti. E non solo patrimonio di chi ha i mezzi per potersene occupare. Presidente, nel 2023 è nato giubileo 2025 Noma in cammino. Quali sono gli scopi di questo progetto? No, ma in cammino è nato perché abbiamo pensato che era il momento di svolgere un'attività di forte interesse, credo per tutti, tanto che siamo stati sollecitati non solo dal presidente della CEI, Camminale Zuppi, ma anche dal ministero della cultura, il ministro San Giuliano. Aderì il Monsignor Fisichella che è il decano per il giubileo 2025 ha voluto darci subito il suo logo. Si tratta di un viaggio, di un pellegrinaggio laico-etico che noi rivolgiamo nelle abbassie dell'Europa alla ricerca dell'identità e della cultura più profonda. Quella che Gates indicava dicendo che l'Europa è nata a pellegrinaggio. Devo dire che abbiamo già percorso molte tappe, siamo partiti da Canteguri nel luglio del 2023, poi siamo stati all'abbassia di Chiarevalle qui di Milano, abbiamo visitato l'abbassia di San Gallo in Svizzera, siamo stati a Padula, la ciotola di Padula che è un luogo straordinario e bellissimo nel Cilento e siamo appena rientrati dalla Germania, da Planckstetten, che è un abbassia straordinaria, meravigliosa e di grandissimo interesse anche non solo culturale ma anche scientifico per le attività che evolvono e che si trova nel cuore della Baviera, tra Monaco di Baviera e Noriberga. Andremo poi ancora in Belgio, d'Orvalle-Scommon, andremo in Olanda, andremo ancora in Germania-Fulda dove poi è stata fondata anche la Goodyear che produce le gomme, come voi sapete, ma questo è solo particolare per dire come questi territori sono cresciuti con una identità culturale importante all'interno della quale noi portiamo la nostra esperienza. Io sono anche cattedra UNESCO per la sostenibilità e l'ambiente, gli ESG e quindi abbiamo fatto anche incontri, in tutte queste mazie abbiamo fatto innanzitutto incontri di carattere culturale scientifico con grandi esperti che sono venuti da tutte le parti del mondo, naturalmente stiamo parlando dell'Europa perché siamo collegati direttamente alla via francisena, abbiamo il patrocinio della Commissione Europea e per Frank Steffen anche quello del Parlamento Europeo e si tratta di una grande e forte iniziativa sulla quale stiamo lavorando e lavoreremo fino alla fine del 2025, quando si chiuderà, come voi sapete, a Roma il Giubileo. Il cammino, un cammino in questo caso che è un insieme scoperta di luoghi e di emozioni, riscoperta di se stessi, condivisione e è stato detto che essere in cammino scalda, è così, lei lo ha sperimentato in questi mesi appunto di cammino e di incontri? Beh insomma, senza voler essere banali, diciamo che il cammino è un'esperienza che ci ha messo a contatto non solo con queste grandi realtà che sono le abazie europee, ma soprattutto con il mondo che gli abati sono riusciti a costruire intorno alle abazie, quindi le relazioni con le persone. Abbiamo fatto molti incontri anche di carattere spirituale, ma soprattutto abbiamo fatto anche incontri di carattere culturale in generale, chiamando grandi artisti a lavorare con noi nei giorni in cui siamo stati presenti nelle abazie. Che bello, il cuore cristiano dell'Europa dunque continua a battere e a palpitare poi in vista anche di questo evento così importante che è il Giubileo del 2025. Allora ringraziamo la Presidente dello Spazio Teatro Noma di Milano, Livia Pomodoro, per essere stata con noi. Grazie, grazie Presidente e buon cammino. Grazie, grazie a voi. Grazie. Se siete d'accordo attraverso il nostro ufficio stampa vi manderemo anche il link, non so se ce l'hanno già nel sito, così potrete vedere le ulteriori tappe del nostro cammino e poi su queste costruiremo anche un incontro conclusivo nel quale daremo notizia di tutto quello che abbiamo fatto e della ricchezza che abbiamo costruito per noi, per il nostro paese, per la cultura italiana in Europa e per questa aver risaldato radici profonde che già esistono e che sono fortissime nella nostra cultura e nella nostra realtà. Grazie, grazie di cuore. Sarà un piacere avere ovviamente tutti i vostri riferimenti. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie, tra l'altro abbiamo visto appunto queste immagini, questo è il promo di questo evento dell'associazione Giubileo 2025 in cammino, quindi il Belgio, la Svizzera, l'Italia, un viaggio davvero tra le più belle abbazie europee. Sì, in effetti Paola, riflettevo, tante volte noi siamo un po' troppo proiettati su noi stessi, magari parlo a livello nazionale, ecco perché comunque il nostro, il patrimonio cristiano dell'Europa vive insomma del contributo italiano, però grazie anche a questa esperienza che abbiamo avuto modo di raccontare possiamo testimoniare e certificare che l'Europa, il cuore cristiano dell'Europa è vivo e continua a pulsare attraverso questi luoghi che hanno fatto la storia se vogliamo e dunque è importante darne spazio e sicuramente anche notizie di tutte poi le varie iniziative che ci saranno nel corso dei mesi in preparazione al Giubileo e anche poi nell'anno santo. Nell'anno santo e noi siamo alla ricerca sempre di queste iniziative, in questo caso appunto si tratta di questo cammino che è stato appunto anche certificato per il Giubileo 2025. Che meraviglia, faremo anche noi un pellegrinaggio a piedi, mi piacerebbe percorrere la Via Francigena magari un pezzetto, vedremo se il prossimo anno potremo farlo. Bene Paola, allora noi siamo quasi in chiusura di programma, adesso dobbiamo andare in pubblicità perché c'è un tassativo, subito dopo entreremo nell'ultima parte di Just Today con le rubriche Dritto al Cuore e un minuto con Padre Pio, prima però ci fermiamo appunto per la pubblicità, facciamo qualche minuto di pausa e poi ancora insieme.